E' una ipotesi ma è difficile pensare con certezza al fatto che in Abruzzo il 7 maggio possa essere il giorno da contagi zero, quello insomma dove non ci saranno nuovi casi di coronavirus. E' il parere del professor Marco Valenti, docente aquilano esperto in epidemiologia, che illustra però dati interessanti circa il contagio nella nostra regione nell'intervallo 16-23 aprile. La situazione in Abruzzo nel suo complesso è sotto controllo, può indurre ad un moderato ottimismo ma va attentamente monitorata. Infatti in questo grafico sull'asse delle ascisse vi è il dato di numero dei casi per 100.000 abitanti, su quello delle ordinate l'incremento percentuale dei contagi. Ebbene l'Abruzzo nella parte alta del grafico presenta un numero di casi per 100.000 abitanti di poco più di 200, sotto la media nazionale che è di poco superiore a 300, ma ha fatto registrare un aumento percentuale dei casi secondo solo a quello del Piemonte e ben al di sopra della media nazionale che è intorno al 12,5%. Nel grafico non è inserita la giornata di ieri, molto positiva, con 18 casi a fronte di oltre 1800 tamponi. Il professor Valenti offre una chiave di lettura riferibile alle due facce dello sviluppo del contagio, che è molto debole nel territorio aquilano, debole nel terramano, ma è più forte nelle province di Chieti e Pescara. Noteremo per esempio che l'Aquila, intesa come provincia, quindi come ASD dell'Aquila, noi abbiamo le ASD provinciali, ha una prevalenza, cioè il numero di casi per 100.000 abitanti molto basso, intorno a 70-75 casi per 100.000 abitanti e un incremento percentuale nell'arco degli ultimi dieci giorni di calendario, altrettanto basso, nettamente inferiore al 5%. Teramo ha una prevalenza maggiore rispetto all'Aquila, abbastanza importante, lo colloca intorno al valore di 200 casi per 100.000 abitanti in questo momento, anche qui però l'incremento è relativamente basso nell'arco dell'ultima settimana. Teramo ha sofferto di un problema di focolai circa un mese fa che ha determinato un'impennata improvvisa dei casi per poi vedere un riappiattimento della curva. La situazione invece è un po' peggiore nelle province di Chieti e di Pescara. Pescara ha una prevalenza di malattia assolutamente molto alta, tra i 350 e i 400 nuovi casi per 100.000 abitanti, Chieti tra i 150 e i 200 casi per 100.000 abitanti, ma con un incremento percentuale nell'arco degli ultimi dieci giorni particolarmente elevato, intorno al 30%. Quindi potremmo dire che l'Aquila è in una situazione di zona fredda, Teramo potremmo dire che è in una zona di raffreddamento generale della situazione epidemica, Pescara è nella zona hot, nella zona calda e Chieti è in una situazione di incremento sostanziale in questo momento della sua condizione di rischio generale. in generale l'Abruzzo, ripeto, ha una situazione non lontanissima dalla media nazionale, ma degna di essere attenzionata.